Buongiorno Massimiliano Stellato, tutto bene? Non ce l'ho con te, sei una persona simpatica con chi andrai la prossima volta? Con il centro-destra o con il centro-sinistra? Con te Con me? No, io non accetto i saltimbanchi politici, non li attecco, politici e no, dal centro-destra al centro-sinistra e dal centro-sinistra al centro-destra Tu scadi sempre nelle offese, continui a fare il pagliaccetto con il... Io faccio l'imprenditura e commerciale, no, pagliaccetto non lo faccio Pagliaccetto, così come hai definito me l'altro giorno Politicamente Pagliaccio politico Detto da te un complimento Pagliaccio politico Detto da te un complimento Rispondi, con chi stai? Con il centro-destra o con il centro-sinistra? Sto con te No, no, non stai con me Sto, siccome faccio il pagliaccio, sto con i pagliacci politici Hai sbagliato proprio la persona, perché io ho mantenuto sempre la mia coerenza Pagliaccio politico Lo dici di te stesso? Eh, te lo so di gente Questi sono i post che Massimiliano Stellato ha pubblicato sul suo profilo Ora, valutate voi chi è davvero il pagliaccio